Abbiamo la fortuna di vivere in uno scenario naturalistico spettacolare e quale modo migliore di valorizzare con le attività sportive che noi organizziamo dalla canoa al nuoto, alla palla al nuoto, un po' tutti gli sport acquatici che come circolo organizziamo grazie soprattutto alla collaborazione di tante associazioni ma non solo associazioni, anche enti di promozione sportiva, quasi tutti, dalla Xen, al CSI, alla Federazione Italiana Nuoto, al Centro Sportivo Italiano un po' tutte le federazioni che organizzano attività sportive nautiche. Abbiamo queste attività coniugano sport e turismo, sono delle vetrine per il nostro territorio e giustamente ogni anno per un atleta che viene nel Cilento e rimane incantato ed emozionato da questi scenari naturalistici ci fanno promozione e quindi ogni anno i numeri aumentano sempre. Io direi che questo è il modo più corretto per vivere le acque del Cilento che sono preziose, sono assolutamente straordinarie per qualità e per biodiversità ma devono trovare un modo corretto per essere vissute. Spesso siamo abituati a vivere di corsa queste acque con grandi imbarcazioni ma il modo migliore per scoprire la biodiversità, la qualità dell'ambiente cilentano è proprio il kayak, le barche a vela. Dobbiamo essere un po' più sostenibili ma soprattutto dobbiamo avere nell'animo la lentezza di questo luogo che ci fa vedere le cose bellissime e straordinarie. Abbiamo parlato di internazionalità, ovviamente questo richiama anche un flusso turistico diverso e maggiore nel nostro territorio. Soprattutto un segmento di turisti più sensibili, stranieri che amano anche il fuoristagione, che riescono a programmare diversamente le proprie vacanze e con un obiettivo un po' diverso dal nostro più italiano turismo balneare, insomma, meno agostano, quello che ci consente di raccontare questi luoghi in un momento diverso dell'anno. Di anno in anno il Cilento scopre nuove vocazioni, nuove possibilità e le offre al resto dell'Italia e devo dire d'Europa perché è sempre più spesso e non solo, anzi in questi giorni ho incontrato un nutrito gruppo di giovani di Boston che erano qui a Traceroli e Pioppi. Insomma, credo che questa sia la giusta direzione nello sviluppo di un turismo che sia sostenibile, che è una parola abusatissima ma che va declinata assolutamente in questo caso, sappiamo bene, i danni dell'over turismo. Quindi offrire più servizi, servizi di qualità, provare a declinare la dieta mediterranea in senso pieno che, come sappiamo, non è solo alimentazione, stile di vita, abitudini alimentari ma anche attività fisica, passeggiate, camminate per sentieri e il Cilento offre tutto questo. Un mare meraviglioso ma costa e sempre più coste vengono valorizzate. Credo che questa sia la direzione giusta e poi iniziative di sport non aggressivi, il kayak, la canoa, il sup, la vela. Insomma, queste sono le risposte migliori alle esigenze crescenti di tanti giovani e non solo. Quindi io sono felicemente stasera qui con Gianni De Luca e tanti amici per provare a fare una piccola parte per favorire queste nuove, almeno per Cilento, tendenze. Abbiamo organizzato questa manifestazione in memoria di un canoista bietrese, Salvatore Gaudiano, che è stato il primissimo canoista a portare la canoa in Costiera Amalfitana e più in generale in Campania. Ho deciso da due anni di spostarla. Prima la facevamo a vitri, però è diventata invivibile sia il mare, troppo antropizzata, barche, barconi, eccetera, eccetera. E abbiamo individuato questa location, questo tratto di mare, che tra l'altro è l'area marina protetta di Castellabate, che ci consente di pagaiare in più, in tranquillità, serenamente, e di vivere l'ambiente marino, diciamo, nel rispetto della natura, come è nello spirito di tutti i canoisti noi che amiamo il mare. Sono presenti due ragazze che vengono dalla Russia, che chi se ne dica, due brasiliani, e poi è molto vario pinta e colorata la manifestazione, in quanto ci sono persone di Viterbo, Latina, Roma, vengono da Bari, insomma, c'è un assortimento umano molto vario. Siamo ben lieti di essere ospitati in questa location. Arriva anche Giovanni Pisciottani, che mi ha collaborato tantissimo dell'Associazione Circolo Nautico Punta Teresino. Ovviamente solcheremo, siamo una cinquantina di persone, di kayak, solcheremo questo mare meraviglioso, onorando l'ennesima bandiera blu ricevuta quest'anno dalle nostre acque. Il modo migliore per venire in Cilento, il kayak è un'ottima soluzione. Ottimo. Grazie. Ah, questo è un ricordo del raduno e questo è un ricordo del raduno. Grazie. 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 Grazie.